finalmente arrivarono anche le feste di natale già alla vigilia i detenuti quasi non andavano al lavoro alcuni erano usciti per recarsi alle sartorie e alle officine i restanti si erano fermati per un po allo smistamento e benché fossero stati destinati a qualche mansione quasi tutti uno alla volta o a gruppetti avevano fatto subito ritorno alla prigione da cui nel pomeriggio nessuno ormai usciva anche al mattino la maggior parte dei detenuti andava in giro per le proprie faccende non per quelle previste dal regolamento alcuni brigavano per introdurre nella prigione vodka di contrabbando o per ordinarne dell'altra altri si vedevano con i propri compari e le proprie comari o in vista della festa riscuotevano i crediti accumulati per lavori eseguiti in precedenza baklushin e coloro che partecipavano alla rappresentazione teatrale in programma dopo due giorni erano impegnati a convincere alcuni conoscenti soprattutto tra la servitù degli ufficiali a farsi dare i costumi necessari altri ancora giravano con aria affacendata e frenetica soltanto perché la gente intorno era affacendata e frenetica e sebbene alcuni ad esempio non avessero in programma di ricevere soldi da nessuno avevano l'aria di chi si apprestasse a riceverne insomma era come se tutti si aspettassero che il giorno seguente avrebbe recato qualche cambiamento qualcosa di insolito verso sera i mutilati che erano stati inviati al mercatino dai detenuti arrivarono carichi di ogni genere di cibo carne di manzo maialini e perfino anatre molti detenuti anche i più misurati e parsimoniosi quelli che avevano risparmiato per tutto l'anno le proprie copecche consideravano un obbligo allentare i cordoni della borsa per una giornata del genere e onorare degnamente la fine del digiuno previsto dalla tradizione russa prima del pranzo di natale l'indomani per i detenuti sarebbe stata festa una festa vera imprescrittibile riconosciuta con tutti i crismi della legge quel giorno il detenuto non poteva essere mandato al lavoro e di giorni come quello ce n'erano soltanto tre all'anno e poi chissà quanti ricordi dovevano ridestarsi nelle anime di quei raietti mentre celebravano quel giorno le feste solenni si imprimano fermamente nella memoria delle persone semplici fin dall'infanzia sono giorni di riposo dai lavori pesanti giorni di intimità familiare e nella prigione dovevano tornare alla mente con tormento e angoscia per i detenuti il rispetto del giorno solenne assumeva addirittura le forme di un certo qual decoro pochi gironzolavano tutti erano seri e come impegnati in qualche cosa sebbene molti non avessero quasi nulla da fare ma anche gli oziosi e gli sfaccendati si sforzavano di mantenere un certo contegno le risate era come se fossero bandite nel complesso lo stato d'animo ormai confinava con la pedanteria e l'insofferenza per malosa e chi rovinava l'atmosfera generale anche se per puro caso veniva rimproverato ad alta voce e persino a male parole era come se fosse la mancanza di rispetto verso la festa a far scattare la collera un simile stato d'animo nei detenuti aveva qualche cosa di rimarchevole perfino di toccante oltre a un'innata venerazione per il giorno solenne il detenuto inconsciamente percepiva che osservando la ricorrenza era come se si mettesse in contatto con il mondo intero sentiva di essere quindi non del tutto reietto o perduto staccato dal consorzio umano avvertiva che anche in prigione le cose stavano come fra la gente fuori questo era il sentire dei detenuti si vedeva e si capiva anche Akim Akimic si preparava molto intensamente alla festa non aveva ricordi familiari poiché era cresciuto orfano in casa altrui e praticamente all'età di 15 anni era stato mandato a fare un lavoro pesante non c'erano state nemmeno gioie speciali nella sua vita da che egli l'aveva condotta tutta in modo regolare monocorde temendo di sgarrare anche di un non nulla rispetto ai doveri che gli erano stati intimati e non era religioso in alcun modo particolare dal momento che la sua morigeratezza pareva aver inghiottito tutti gli altri talenti e le peculiarità della persona tutte le passioni e i desideri buoni e cattivi di conseguenza egli si preparava a celebrare il giorno solenne con frenesia o agitazione non adombrandosi con ricordi malinconici e del tutto inutili bensì con quel tanto di calma e metodica costumatezza necessaria all'adempimento dei doveri e del rito fissato una volta per tutte e in generale non è che Akim Akimic amasse poi tanto soffermarsi a riflettere l'importanza di un fatto non sembrava sfiorare la sua mente ma alle regole una volta che gli erano state indicate si atteneva con religiosa puntualità se il giorno successivo gli avessero ordinato di compiere qualcosa di totalmente diverso l'avrebbe fatto con la stessa rendevolezza e meticolosità con cui aveva fatto l'opposto il giorno precedente una volta una sola volta nella vita aveva provato a fare di testa sua ed era finito in prigione aveva imparato la lezione e sebbene non fosse destinato a capire nulla di ciò per cui si era reso colpevole aveva evinto dall'esperienza della reclusione una regola salvifica non discutere mai in nessuna circostanza perché discutere non era pane per i suoi denti come dicevano fra loro i detenuti dedito ciecamente al rito persino al maialino procurandosi per la festa che aveva farcito di xà ossia polentina di grano saraceno e poi cotto con le sue stesse mani già che sapeva anche cucinare e gli rivolgeva uno sguardo di cauteloso rispetto quasi che non si trattasse di un maialino comune da potersi comprare e cuocere in ogni momento bensì di un animale speciale quello della festa forse fin dall'infanzia era stato abituato a vedere quel giorno in tavola un maialino deducendone che fosse indispensabile per quella ricorrenza e io sono sicuro che se anche per una volta sola a natale non avesse mangiato del maiale per tutta la vita gli sarebbe rimasto sulla coscienza il rimorso per non aver adempiuto un dovere prima della festa Akim Akimic girava con la sua vecchia giubba e con i suoi vecchi pantaloni dignitosamente rattoppati eppure del tutto logori gli indumenti nuovi infatti che gli erano stati consegnati circa quattro mesi prima li custodiva gelosamente nel suo bauletto e nemmeno vi si avvicinava ridendogli il pensiero che li avrebbe solennemente sfoggiati il giorno della festa e così fece già la sera prima li aveva presi dispiegati, controllati aveva dato loro una ripulita e una rinfrescata e compiute tutte queste operazioni li aveva preventivamente provati gli andavano proprio a pennello ma era tutto a posto la giubba si abbottonava aderente fino in cima il bavero quasi avesse la rigidezza della corda teneva il mento ben sollevato fasciato alla vita come avesse un uniforme Akim Akimic si lasciò perfino sfuggire a un sorriso di soddisfazione e con una punta di baldanza si voltò e rivoltò davanti al suo specchio minuscolo a cui con le sue stesse mani aveva applicato nei momenti liberi un bordino dorato soltanto un gazzetto sul bavero della giubba gli sembrò fuori posto allora Akim Akimic ripiegò ogni cosa come prima e tranquillizzatosi la ripose nel bauletto fino al giorno dopo era soddisfatto della rasatura della testa e tuttavia rimirandosi attentamente allo specchietto notò che non era proprio perfettamente liscia la radice dei capelli faceva capolino così si recò immediatamente dal maggiore per farsi radere in modo irreprensibile e consono alla norma e anche se sapeva che l'indomani nessuno si sarebbe messo a esaminarlo Akim Akimic si rasò i capelli soltanto per mettere a tacere la coscienza e compiere in vista di un giorno come quello il proprio dovere fino in fondo l'attenzione maniacale per il bottone per la spallina per l'occhiello sarà insediata permanentemente nel suo cervello assumendo le forme di un obbligo incontestabile per il cuore invece tra le attenzioni rappresentava l'immagine del grado massimo di bellezza che un uomo per bene può raggiungere ciò fatto Akim Akimic in qualità di detenuto veterano dispose che venisse portato del fieno quindi controllò scrupolosamente il modo in cui esso veniva sparso sul pavimento la stessa cosa succedeva nelle altre baracche non so perché ma per il Natale in ogni baracca della prigione veniva sempre sparso del fieno poi svolte tutte le mansioni Akim Akimic pregò si stese sul proprio giaciglio e si addormentò subito del placido sonno di un bambino per potersi svegliare il mattino successivo il prima possibile così dal resto fecero anche tutti gli altri detenuti in tutte le baracche ci si mise a letto molto prima del solito i consueti lavoretti cui i detenuti erano soliti dedicarsi la sera vennero tralasciati le piccole bische i cosiddetti maidan erano fuori discussione tutto attendeva il mattino seguente che infine giunse molto presto ancora prima dell'alba a sveglia appena suonata le baracche vennero aperte e sotto ufficiale di guardia entrato a fare la conta dei detenuti augurò loro buon Natale i detenuti ricambiarono facendolo in modo amichevole e affettuoso dopo una preghiera detta molto frettolosamente Akim Akimic e i molti che avevano lasciato le loro anetre e i loro maialini in cucina si affrettarono a vedere cosa ne stessero facendo come li stessero arrostendo dove si trovasse questa o quella cosa e così via attraverso l'oscurità dalle piccole finestre della nostra baracca ingombre di neve e di ghiaccio si vedeva in entrambe le cucine e in tutti e sei forni ardere un fuoco vivido attizzato già prima dell'alba nel buio del cortile già correvano di qua e di là i detenuti con i propri pellicciotti che alcuni di loro avevano semplicemente gettato sulle spalle tutti si dirigevano verso la cucina certi pochi peraltro avevano già fatto in tempo a fare un salto dall'oste della prigione erano quelli che meno si sapevano trattenere in generale invece tutti si comportavano in modo decoroso erano tranquilli e insolitamente cerimoniosi non si udivano né i soliti insulti né i soliti battibecchi tutti capivano che il giorno era importante e la festa solenne alcuni si recavano nelle altre baracche per fare gli auguri a qualche compagno si creava un clima quasi di amicizia a passare faccio notare che tra i detenuti non si instaurava quasi mai un vincolo d'amicizia non dico a livello collettivo questo va da sé ma individuale ossia quell'amicizia che può nascere fra un singolo detenuto ed un altro nella prigione ciò non si verificava quasi mai ed è un fatto degno di nota in libertà le cose stanno diversamente ma in prigione a parte alcune rare eccezioni ci si rivolgeva agli altri con piglio ruvido asciutto con un tono in qualche modo formale adottato e stabilito una volta per tutte anch'io uscii dalla baracca aveva appena iniziato ad albeggiare le stelle si spegnevano si levava un vapore gelido e lieve dai camini della cucina il fumo fuoriusciva a colonne alcuni dei detenuti che mi capitava di incontrare mi facevano di buon grado e con affetto gli auguri di buon Natale di loro iniziativa io ringraziavo e ricambiavo alcuni di questi non avevano mai scambiato con me una sola parola nel corso del mio primo intero mese di detenzione proprio a ridosso della cucina mi raggiunse un detenuto della baracca militare portava un pastrano di pelliccia rozza il tulup gettato sulle spalle mi aveva scorto già a metà del cortile e gridava Aleksandr Petrovich Aleksandr Petrovich correva verso la cucina di gran fretta io mi ero fermato ad aspettarlo era un tipo giovane dal viso rotondo e dall'espressione placida negli occhi uno po' colloquace con tutti che mai prima d'ora aveva scambiato parola con me né mi aveva degnato di alcuna attenzione sin da quando avevo messo piede nella prigione ignoravo perfino come si chiamasse mi si avvicinò di corsa trafelato e mi si parò davanti osservandomi fisso con un sorriso a tempo ottuso e beato che le serve? gli domandai con una certa sorpresa vedendo che mi stava di fronte sorridendomi e guardandomi con tanto d'occhi senza però attaccare il discorso ma come sarebbe? è festa? borbottò e capendo da sé che non c'era nient'altro da dire mi lasciò lì e si affrettò a dirigersi verso la cucina faccio notare a proposito che in seguito non siamo mai più venuti in contatto e non ci siamo scambiati una sola parola fino a quando sono uscito dalla prigione in cucina vicino ai forni che marciavano a pieno regime era tutto un affacendarsi e uno spintonarsi una vera e propria calca ognuno sorvegliava la propria roba i cuochi iniziavano a preparare il cibo previsto dal regolamento perché era stato stabilito che si prendasse prima del solito nessuno peraltro aveva ancora iniziato a mangiare e ben che alcuni ne avessero voglia per rispetto degli altri veniva osservato il decoro si attendeva il prete solo in seguito era previsto che cessasse il digiuno nel frattempo non si era ancora fatto pieno giorno che dietro il portone d'ingresso della prigione già avevano iniziato a risuonare le grida di richiamo del caporale i cuochi queste grida si udivano quasi ogni minuto e continuavano per quasi due ore si chiedeva che i cuochi venissero in cucina per ricevere le offerte giunte alla prigione da ogni angolo della città recate in enorme quantità esse erano costituite da pane a ciambella chiamati calac pagnotte tortine di ricotta pasticcini focaccine crepe dette blini e altri vari dolcetti penso che in tutta la città non ci fosse padrona di casa nelle famiglie di mercanti o di borghesi che per la festa solenne non avesse inviato il proprio pane in segno di augurio ai cosiddetti disgraziati e ai reclusi c'erano offerte molto ricche dolci fatti con farina purissima e inviati in gran quantità c'erano offerte molto povere un calac misarello e due pasticcini spalmati con un filo di panna acida dono del povero al povero ricavato dal poco che gli era rimasto ogni cosa veniva accettata con uguale gratitudine senza fare differenze tra doni e donatori nell'atto di prendere i detenuti si toglievano i berretti si inchinavano auguravano buon natale e portavano le offerte in cucina una volta che si furono accumulati mucchi interi di pane dato in offerta furono fatti venire da ogni baracca gli anziani che presero a distribuire tutto in parti uguali baracca per baracca non ci furono né liti né imprecazioni la spartizione veniva condotta in modo onesto con divisioni in parti uguali pensammo noi a dividerci ciò che era toccato alla nostra baracca a fare le parti erano Akim Akimic e un altro detenuto eseguivano l'operazione con le loro stesse mani e sempre con quelle consegnavano il cibo a ognuno non ci fu da ben che minima rimostranza né alcuna manifestazione di invidia da parte di nessuno tutti rimasero soddisfatti non poteva nemmeno esserci il sospetto che le offerte venissero trafugate o distribuite non equamente sistemate le sue faccende in cucina Akim Akimic diede avvio alla propria vestizione si abbigliò con fare decoloso e solenne senza lasciare alcun gancetto slacciato dopodiché si mise a pregare come si conviene lo fece a lungo durante la preghiera erano presenti parecchi detenuti per lo più avanti con gli anni la maggior parte dei giovani non pregavano persino in occasione delle feste era già tanto se qualcuno alzandosi si faceva il segno della croce finita la preghiera Akim Akimic mi si avvicinò e con una certa gravità mi augurò buon Natale a quel punto io lo invitai a prendere il tè e lui invitò me a mangiare il suo maialino di lì a poco accorse per farmi gli auguri anche Petroff a quanto pare aveva già bevuto e sebbene fosse giunto trafelato non disse granché limitandosi a piazzarmisi di fronte per un po' con l'aria di chi si aspetti qualcosa per poi allontanarsi rapidamente in direzione della cucina nel frattempo nella baracca militare ci si preparava ad accogliere il prete questa baracca era stata allestita in modo diverso dalle altre dentro i pancazzi erano collocati lungo le pareti anziché nel mezzo della stanza sicché essa era l'unica nella prigione ad avere la parte centrale non in gombra probabilmente era stata allestita così perché in caso di necessità vi si potessero riunire i detenuti in mezzo alla stanza era stato messo un tavolino giù cui era stato steso un telo pulito e accesa una lampada finalmente arrivò il prete con la croce e l'acqua santa dopo che ebbe pregato e cantato di fronte all'icona si mise davanti ai detenuti e tutti con sincera devozione si accostarono per baciare la croce poi il prete fece il giro di tutte le baracche aspergendole con l'acqua santa in cucina e gli lodò il pane della nostra prigione che in città era rinomato per il suo sapore e subito i detenuti manifestarono il desiderio di fargli avere due pagnotte fresche appena sfornate della commissione venne incaricato uno dei mutilati la croce venne accompagnata fuori con la stessa devozione con cui era stata accolta dopodiché quasi subito arrivarono il maggiore e il comandante al comandante volevamo bene e ne avevamo perfino rispetto accompagnato dal maggiore e gli passò in rassegna tutte le baracche augurò a tutti buon Natale fece un salto in cucina e assaggiò lo sci la minestra di cavoli della prigione era venuta benissimo in occasione della festa era stato assegnato ad ogni detenuto quasi un funto di carne di manzo cioè più di 300 grammi inoltre per l'occasione era stata preparata la cascia di miglio ed era stato usato burro a profusione accompagnato fuori il comandante il maggiore ordinò che si iniziasse il pranzo i detenuti cercavano di non incrociare la traiettoria del suo sguardo non amavano gli occhi truci con cui egli da dietro la montatura anche in quel momento controllava a destra e a sinistra se non vi fosse qualche irregolarità se non gli capitasse di cogliere in fallo qualcuno si iniziò a pranzare il maglialino di Akim Akimic era cotto magnificamente io proprio non riuscivo a spiegarmi come fosse successo non erano passati cinque minuti dalla partenza del maggiore che un bel po' di uomini erano già ubriachi gli stessi che soltanto cinque minuti prima erano quasi completamente sobri sfuntarono molte facce rosse rosse e accese comparvero alcune balalaiche il polaccuccio con il violino ingazzato per l'intera giornata già se ne andava in giro al seguito di uno sfaccendato strimpellando gli allegre danze le voci si facevano più eccitate e rumorose ma il pranzo si concluse senza grossi disordini tutti erano sazi molti anziani e molti detenuti posati se ne andarono subito a dormire cosa che fece anche Akim Akimis ritenendo a quanto pare che nel dopo pranzo di una festa solenne si dovesse immancabilmente prendere sonno dopo aver schiacciato un pisolino l'anziano vecchio credente starodubbie si arrampicò sulla stufa aprì il suo libro e pregò fino a notte fonda senza quasi mai interrompersi gli era penoso osservare quella virgogna come egli chiamava la balloria collettiva dei detenuti tutti i circassi si misero a sedere sul terrazzino d'ingresso osservando con curiosità neanche con un po' di ripulsa la gente ubriaca mi venne incontro un urrà male male mi disse il tartaro scrollando la testa con indignazione compunta oh male poi in russo all'assara in collera con fare caparbio altezzoso isei ifomich accese una candela nel suo angoletto e si mise a lavorare ostentando così il suo manifesto disinteresse nei confronti della festa qua e là negli angoli si organizzarono Maidan dei mutilati incaricati alla sorveglianza della baracca non si aveva paura nell'eventualità che si presentasse il sotto ufficiale che per parte sua si sforzava comunque di non notare nulla vennero appostate sentinelle nel corso dell'intera giornata l'ufficiale di guardia fece due o tre capatine nella prigione ma al suo apparire gli ubriachi si nascondevano i Maidan venivano rimossi e degli stesso a quanto sembrava aveva deciso di chiudere un occhio sulle piccole irregolarità Tale era considerato l'ubriaco quel giorno a poco a poco la gente si lasciava andare iniziarono anche le liti i sobri erano comunque in abbondante maggioranza per cui c'era chi poteva controllare gli altri ma quelli che facevano bisboccia bevevano senza misura Gazin trionfava con aria compiaciuta gozzovigliava nel suo pancaccio accanto al punto sotto il quale con audacia aveva trasportato della vodka che in precedenza aveva conservato nella neve dietro le baracche in un luogo segreto e ridacchiava maligno osservando i compratori che gli facevano visita quanto a lui era sobrio non aveva bevuto neanche un gozzo aveva intenzione di fare baldoria alla fine della festa dopo avere preventivamente ripulito ben bene le tasche dei detenuti nelle baracche risuonavano canzoni ma l'ubriacatura stava prendendo le forme di un annebbiante stordimento e dalle canzoni alle lacrime non mancava che un passo con i tulup gettati sulle spalle molti giravano di qua e di là con le loro balalaiche e pizzicavano le corde con piglio gagliardo nella sezione speciale si era persino formato un coro saranno stati otto uomini cantavano meravigliosamente accompagnati dalle balalaiche e dalle chitarre motivi schiettamente popolari se ne cantavano pochi ricordo soltanto una canzone per danza eseguita con bravura una sera che ero giovincella a un festino mi recai bel bella e qui ebbi l'occasione di sentire una nuova variante di questo motivo una variante mai incontrata prima in fondo alla canzone erano stati aggiunti alcuni versi or che sono giovinetta rassettata ho la casetta rigoverno i miei cucchiai e lo sci viene buono assai ogni stipita io ho letto e poi sforno un pasticcetto per la maggior parte venivano eseguiti i cosiddetti canti dei detenuti del resto da tutti noti uno di questi un tempo era spiritoso ed escriveva un uomo che un tempo si divertiva vivendo come un signore in libertà ma adesso era finito in prigione veniva descritto come un tempo innaffiasse il blanc manger con lo champagne mentre adesso son cavoli con acqua mangio e il capo mi si spacca in voga era anche la fin troppo nota ragazzo un tempo stavo da pascià un capitale io avevo in mano ma poi con spendi e spandi qua e là mi son trovato a far l'ergastolano e così via solo che da noi capitale ossia capitale si pronunciava copitidl facendolo derivare da copù cioè accumulare venivano eseguite anche canzoni malinconiche ce n'era una tipica dell'ambiente dei forzati anch'essa nota a quanto pare non a mosca né al di di mosca splende la luce nel cielo lontano ecco il tamburo che suona la sveglia ora la porta spalanca l'anziano e lo scrivano si appresta all'appello di là dai muri noi non si ci vede e non si sa che vita conduciamo ma dio il creatore è qui con noi provvede neppure qui perciò noi ci perdiamo e così via se ne cantava anche un'altra ancora più malinconica ma che aveva una melodia magnifica e probabilmente era stata composta da un deportato usando parole stucchevoli e piuttosto sgrammaticate ora me ne ricordo soltanto alcuni versi non vedranno ai miei occhi quel posto che un dia il mondo mi vide venire un destino per sempre mi ha imposto senza colpa soffrire e soffrire sciudrà il verso del gufo sul tetto che pei boschi eccheggiante andrà ed onore mestizia avrò in petto non ci sarò io là queste parole venivano cantate spesso non in coro bensì in solitudine capitava che qualcuno nei momenti di libertà uscisse sul terrazzino d'ingresso della baracca vi si sedesse e sprofondando nei suoi pensieri e pumpellandosi la guancia con la mano intonasse questa canzone in un alto falsetto sentirla straziava l'anima avevamo voci di tutto rispetto intanto iniziava a imbrunire in mezzo alla baldoria e la bisboccia cominciavano pesantemente ad affiorare tristezza angoscia e stordimento chi un'ora prima rideva adesso ubriacatosi oltremisura si inghiozzava da qualche parte altri avevano già fatto in tempo ad azzuffarsi un paio di volte altri ancora pallidi si reggevano a stento sulle gambe e vagavano per la baracca attaccando briga chi invece non aveva la sbornia dell'attaccabrighe cercava in vano degli amici con cui sfogarsi e piangere il proprio ebro dolore tutta questa povera gente desiderava divertirsi trascorrere in allegria la festa solenne e invece come era pensoso e triste quel giorno quasi per tutti signore Dio ognuno lo viveva con la sensazione di una speranza tradita Petrov mi venne a trovare un altro paio di volte aveva bevuto poco ed era quasi completamente sobrio fino all'ultimissima ora tuttavia egli si aspettò che succedesse qualcosa di insolito di festoso di molto allegro anche se non lo diceva espressamente glielo si leggeva negli occhi passava da una baracca all'altra senza sosta ma non accadde nulla di particolare non c'erano altro che ubriacature imprecazioni sgangherate ed ebbre e facce inebetite dalla sbornia anche Sirotkin girontolava lindo e lustro per tutte le baracche con la sua nuova camicia e silenzioso e ingenuo sembrava aspettasse qualcosa nella baracca l'atmosfera si faceva sempre più insopportabile ripugnante c'era naturalmente anche un chedi comico in tutto ciò ma io provavo una certa tristezza e tutti mi facevano pena tra loro mi sentivo molto a disagio come se stessi soffocando ecco due detenuti che da un pezzo stavano discutendo per decidere a chi toccasse offrire e che poco prima avevano perfino litigato uno in particolare aveva da parecchio il dente avvelenato nei confronti dell'altro si lamentava e farfugliando goffamente si sforzava di dimostrare che l'altro si era comportato in modo ingiusto con lui c'era di mezzo la vendita di un certo pellicciotto certi soldi nascosti da qualche parte l'anno prima durante il carnevale e poi qualcos'altro ancora l'accusatore era un tizio alto e muscoloso non sciocco pacifico ma che se ubriaco aveva la tendenza ad attaccare bottone e a sfogare il proprio dolore sbraitava e accampava pretese come se desiderasse poi pacificarsi in modo ancora più duraturo con l'avversario che era un tipo robusto terchiato non molto alto dalla faccia rotonda e dall'aria furba e losca quest'ultimo forse aveva bevuto più del suo compagno ma era appena appena brillo era un tipo di carattere e passava per essere un danaroso ma per qualche motivo in quel momento non gli conveniva irritare il suo esuberante amico che perciò condusse dall'oste secondo quanto affermava l'amico esuberante l'altro aveva l'obbligo di offrire da bere se solo era una persona onesta l'oste con un certo rispetto per chi stava ordinando e con una punta di disprezzo verso il tipo esuberante che stava scroccando si fece offrire da bere prese la vodka e ne servì un bicchiere no caro mio stefan disse l'amico esuberante accorgendosi di spuntarla poi storpiando qualche parola aggiunse tu devi perché è proprio tuo dovere con te non starò certo a menare la lingua rispose il caro stefan no mio caro stefan tu conti balle ribadì l'altro ricevendo il bicchiere dall'oste tu i soldi me li dovevi e senza coscienza anche gli occhi non paiono tuoi e brano presi a prestito è una canaglia mio caro stefan ecco questa è la parola canaglia ma cosa frigni guarda che hai rovesciato la vodka ti trattano da re e offrono pure e bevi allora gridò l'oste all'amico esuberante mica ti staremo dietro tutta la notte ma si bevo cosa hai da urlare auguri stefan drofeiz disse cortese l'amico esuberante tenendo il bicchiere in mano e accennando un inchino all'indirizzo dello stesso caro stefan che un attimo prima passava per canaglia e ora veniva designato persino del patronimico d'orofeiz alla salute che tu possa campare cent'anni senza contare quelli già vissuti beve fece una specie di grugnito e si asciugò la bocca prima amici miei ne reggevo di vodka osservò con serio sussiego come rivolgendosi a tutti e a nessuno in particolare ma adesso ormai sì l'età non è più quella ti ringrazio stefan drofeiz non c'è che dire allora mio caro stefan torno a farti sempre lo stesso discorso e a parte il fatto che con me sei stato una gran canaglia ti dirò che senti quello che ti dico io invece brutto muso da beone lo interruppe il caro stefan che aveva perso la pazienza stammi bene a sentire ficcati nel cervello ogni mia singola parola dividiamo il mondo a metà mezzo a me e mezzo a te vattene per la tua strada e non capitarmi più a tiro mi hai stufato allora i soldi non me li dai ma di che soldi parli pezzo di ubriacone eh all'altro mondo verrai tu stesso a darmeli ma io non li vorrò il nostro denaro che tanto ci hai fatto affaticare sudare venire ai calli all'altro mondo ti ci strozzerai con i miei soldi ma va il diavolo non spingere mica sono una bestia vai vai canaglia pendaglio da forca e giù di nuovo a prendersi a male parole ancora più di prima della bevuta ed ecco separati l'uno dall'altro due amici seduti sui pancazzi uno era alto robusto molto in carne un'aria da macellaio la faccia rossa quasi piangeva perché era molto commosso l'altro era mingerlino esile magro aveva un naso lungo da cui sembrava gocciolare qualcosa e occhi stretti come quelli di un maiale e chini verso terra era un tipo diplomatico colto un tempo era stato scrivano e trattava un po' dall'alto in basso l'amico che in segreto ne soffriva molto avevano bevuto insieme tutto il giorno mi hai mancato di rispetto gridava l'amico in carne facendo dondolare vigorosamente la testa dello scrivano con il brazzo sinistro lo stesso con cui lo aveva abbracciato mi hai mancato di rispetto significava mi hai colpito l'amico in carne lui stesso un tempo sotto ufficiale invidiava in segreto l'amico smilzo e quindi ognuno ostentava squisitezza d'espressione al cospetto dell'altro ma io ti dico che anche tu sei nel torto iniziò dogmaticamente lo scrivano ostinandosi a non alzare gli occhi sul compagno e continuando a guardare in terra con sussiego mi hai mancato di rispetto capisci non interruppe l'altro strattonando ancora di più il suo caro amico adesso mi sei rimasto soltanto tu a questo mondo capisci quello che ti dico perciò lo dico solo a te mi hai mancato di rispetto e io ti ripeto questo sforzato giustificarsi caro amico non fa certo onore al tuo cervello obiettò lo scrivano con vocina sottile e cortese piuttosto converrai caro amico che tutta questa ebbrezza è figlia della tua innocenza l'amico in carne fece qualche passo indietro oscillando lo trovò con aria ottusa e occhi ubriachi quel misero scrivano tutto compiaciuto e all'improvviso in modo del tutto inaspettato con tutta la forza che aveva assestò un colpo sulla faccia minuta così terminò l'amicizia di un giorno intero l'amico caro andò a finire svenuto sotto il pancazzo ed ecco entrare nella nostra baracca un mio conoscente della sezione speciale quella composta dai criminali più temibili in prevalenza militari era un tipo allegro e infinitamente buonario non sciocco canzonatorio ma mai offensivo e con una singolare aria di semplicione era lo stesso che durante il mio primo giorno in prigione aveva chiesto in cucina dove stesse quello con i soldi e gli era stato indicato gazin aveva assicurato di essere ambizioso e insieme avevamo bevuto un bel po' di tè aveva circa 40 anni labbra insolitamente pronunciate e un naso carnoso cosparso di punti neri teneva in mano la sua bararaica e ne pizzicava svogliatamente le corde come un reggicoda lo seguiva un detenuto piccolissimo e dalla testa grande che fino ad allora conoscevo molto poco nessuno del resto faceva caso a lui era un tipo un po' strano diffidente sempre taciturno e serioso andava a lavorare nella sartoria ed evidentemente cercava di starsene appartato e non avere rapporti con nessuno adesso che era ubriaco si era appiccicato a Varlamov come un'ombra lo seguiva in uno stato di tremenda agitazione sventolando le braccia e battendo il pugno sulla parete e sui pancazzi ed era perfino sul punto di piangere Varlamov sembrava non rivolgergli la benché minima attenzione quasi che accanto a lui non ci fosse nessuno si noti che in precedenza questi due uomini non si erano quasi mai incrociati non avevano niente in comune sia sul piano del carattere sia su quello delle occupazioni erano per giunta di categoria diversa e vivevano in baracche diverse il detenuto piccolo si chiamava Bulkin vedendomi il volto di Varlamov si aprì in un gran sorriso sedevo sul mio pancaccio accanto alla stufa egli mi si piazzò davanti standomi a una certa distanza mi ditò qualcosa barcollò leggermente e avvicinandomi si compasso irregolare si proiettò bravamente in avanti con tutto il tronco e sfiorando lievemente le corde partì con un recitativo accompagnandosi con leggeri colpetti dello stivale tondo e bianco il suo visetto canta come un uccelletto la mia bella è di raso il suo vestito ed è proprio ben guarnito è la mia bella questa canzone sembra far uscire dai ganghi e gli fece un gesto di richiamo con le braccia e rivolgendosi a tutti gridò sono tutte balle amici miei tutte balle non c'è un briciolo di verità sono balle per quello stagionatello di alexandr petrovic proferì varlanov guardandomi negli occhi con un riso malizioso poco ci bancava che mi scoccasse un bacio era un po' alticcio l'espressione per quello stagionatello del tal dei tali ossia i miei rispetti al tal dei tali è diffusa tra il popolo di tutta la siberia sebbene si riferisca a una persona di vent'anni la parola stagionatello è indice di stima rispetto quasi lusinga beh varlamov come va vivo così alla giornata e aggiunse modificando il detto chi è della festa è ubriaco prima dell'alba chi è contento della festa sta già sbronzo presto presto mi deve scusare varlamov parlava cantilenando un poco sono tutte balle tutte balle un'altra volta gridò bulkin come esasperato sbattendo la mano sul pancaccio ma l'altro era come se si fosse ripromesso di non badargli per nulla e che aveva qualcosa di estremamente ridicolo già che bulkin tutto ad un tratto si era appiccicato fin dal mattino a varlamov proprio perché quest'ultimo per qualche motivo così gli era sembrato non faceva che contare balle bulkin si ronzolava seguendolo come un'ombra si attaccava a ogni sua parola si torceva le mani aveva preso a pugni le pareti ai pancacci facendosi quasi sanguinare le mani e soffriva visibilmente soffriva nella convinzione che varlamov contasse balle se avesse avuto capelli sulla testa credo che se li sarebbe strappati per il dispiacere era come se si fosse assunto l'obbligo di rispondere alle azioni di varlamov quasi che tutti i difetti di quest'ultimo passassero invece sulla sua coscienza ma il bello era che varlamov non lo degnava nemmeno di uno sguardo sono tutte balle tutte balle tutte balle non c'è una sola parola che corrisponda al vero gridava bulkin ma a te che te ne frega rispondevano ridendo i detenuti le devo riferire alexandr petrovic che io ero di bell'aspetto e avevo un gran successo con le ragazze iniziò che è che non è varlamov sono balle ancora balle lo interrompeva bulkin strillando i detenuti sghignazzavano davanti a loro io mi ringalluzzisco avevo una bella camicia rossa e delle bracche larghe di felpa me ne stavo disteso come una specie di conte bottiglien cioè sbronzo come uno svedese insomma me la spassavo sono balle rideva deciso bulkin a quel tempo avevo ereditato dal nonno una casetta bianca di pietra a due piani beh in due anni sono riuscito a farmi fuori i due piani mi è rimasto solo il portone senza le colonne che ci vuoi fare i soldi sono colombi arrivano e poi se ne ripartono sono balle ripeteva ancora più deciso bulkin tornato in me ho inviato al parentado qualche riga strappalacrime chissà magari mi avrebbero inviato qualche soldino ma loro dicevano che io mi ero messo contro i miei genitori che non avevo avuto rispetto e sono ormai sette anni che ho spedito la lettera nessuna risposta chiese mettendomi a ridere ma che rispose scoppiando anch'egli in una risata e avvicinando sempre di più il suo naso alla mia faccia ma qui alexander petrovic io ho una signorina lei una signorina onufrieff l'altro giorno mi ha detto la mia sarà anche butterata bruttina però ha un sacco di vestiti la tua invece è bella ma è una poveretta gira come uno straccetto perché è vero in effetti è povera rispose e partì con una risata soffocata anche nella baracca si misero a sghignazzare effettivamente tutti sapevano che si era messo con una poveretta e le dava in tutto dieci copecche ogni sei mesi beh e quindi chiesi volendo alla fine togliermelo di torno state un po' in silenzio mi guardò supplichevole e pronunciò con tenerezza non è che per questa ragione sarebbe così generoso da offrirmi un mezzetto vede alexander petrovic oggi il mio tè l'ho bevuto tutto aggiunse commosso prendendo i soldi e me ne sono talmente riempito che fatico persino a respirare e mi sono venuti i girini nella pancia intanto che prendeva i soldi il turbamento morale di bulkin parve giungere ai limiti estremi desticolava come un disperato era quasi sul punto di piangere uomini timorati di dio gridò rivolgendosi furioso a tutta la baracca guardatelo non fa che contare balle qualunque cosa dica non fa che contare balle 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 a te che te ne frega gli gridavano i detenuti stupiti della sua ira sei uno scemo ecco cosa sei non ammetto balle gridava bulkin con gli occhi che gli brillavano e battendo un pugno sul pancaccio con tutta la forza che aveva non voglio che conti balle tutti sghignazzavano parlamo fin tanto prese i soldi e si congedò facendo moine poi si affrettò a uscire dalla baracca per andare ovviamente dall'oste e a questo punto sembrò notare per la prima volta bulkin su andiamo gli disse arrestandosi sulla soglia come se l'altro davvero gli fosse necessario scopettino aggiunse a sprezzante facendo passare avanti a sé l'amareggiato bulkin e rimettendosi a strimpellare la balalaica ma a che scopo descrivere questo tenebramento finalmente quella giornata opprimente stava concludendosi i detenuti si addormentarono sui pancacci di un sonno pesante nel sonno parlavano e deliravano ancora più che durante le altre notti da qualche parte alcuni sedevano ancora ai maidan la festa tanto attesa era passata domani di nuovo la vita di tutti i giorni di nuovo al lavoro grazie a tutti 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 grazie a tutti